Tutti hanno i numeri, nessuno ne ha abbastanza. Ad una quarantina di giorni dal termine per la presentazione delle liste, a Venafro la situazione è, ricordiamo ad espressione abusata ma indicativa, della quiete prima della tempesta. I candidati sindaco in pectore, al momento sono di più rispetto a quelli che scenderanno effettivamente in campo, stanno lavorando infatti alla individuazione dei 16 candidati consigliere. Compito, l'abbiamo detto e lo ribadiamo, decisamente impegnativo. Gli schieramenti che in questa fase sembrano più avanti hanno riempito solo la metà delle caselle necessarie. Il problema, ci dice uno dei protagonisti, evitare la strategia del mero riempimento, inserire cioè nomi tra virgolette giusto per fare numero. Necessario, invece, mettere in squadra personalità con qualità professionali, spendibili in una eventuale giunta e al contempo in grado di intercettare voti. Sulla composizione della squadra, comprensibilmente più avanti l'uscente Alfredo Ricci. Il sindaco starebbe ancora valutando la corsa per le regionali. In caso di mancata ricandidatura, il nome del vice, Marco Valvona, rimarrebbe il più accreditato per guidare la coalizione verso la riconferma a Palazzo Cimorelli. Altro nome che circola da tempo, quello di Enzo Bianchi. Il primario ed ex primo cittadino all'inizio del 2000 starebbe sondando la disponibilità alla candidatura di esponenti, per usare una metafora sportiva, della sua vecchia squadra. Ricorrente in città anche il nome di Luigi Viscione, l'architetto e presidente in carica della Proloco, è stato tra i primi a partire nel percorso ad ostacoli verso Palazzo Cimorelli. Insieme a lui, il neo costituito movimento civico Laboratorio 86079, una sinergia che nei prossimi giorni andrà verificata. Il fattore decisivo per i competitor dell'amministrazione uscente sarà quello delle sponde politiche con personaggi di peso regionali. I nomi sono noti, l'esito molto meno, ma c'è ancora tempo, tutto rischia infatti di decidersi la settimana dopo Pasqua, a ridosso del termine per la presentazione delle liste.